Se fosse corsi subito a chiedere i finanziamenti nel momento in cui gli altri... Bene, io con oggi ufficializzo la mia candidatura, ho accettato la richiesta che mi è stata proposta dalle forze di centrodestra e dalle liste civiche che orbitano nel centrodestra. Da oggi parte la nostra campagna elettorale con una serie di temi che si possono però raccogliere sotto quattro grandi macro aree. La prima, assolutamente la sanità. È sempre stato il nostro cavallo di battaglia, è il problema principale della nostra città e noi assolutamente siamo agguerriti e sempre più decisi nel risolvere questo problema. Chiaramente non è un problema che possiamo risolvere solo a livello locale, abbiamo bisogno anche di poter interagire e di agire sulla regione e quindi ci aspettiamo che anche nel prossimo futuro anche la regione cambi passo e quindi con una nuova amministrazione si possa finalmente risolvere il problema è dare alla città di Fano, 60.000 abitanti, l'ospedale che si merita. Per quanto riguarda gli altri temi, chiaramente la sicurezza è un altro dei temi sul tavolo, abbiamo bisogno di restituire sicurezza ai cittadini e soprattutto di recuperare quelle parti della città che in questo momento sono oppresse in qualche modo dal degrado, anche il degrado e la pulizia e l'ordine della nostra città, del centro storico ma soprattutto dei quartieri periferici nei quali la gente comunque riscontra quotidianamente abbiamo bisogno di sostenere questa parte della nostra città e poi la cosa che ci sta molto a cuore è ricostruire un tessuto di fiducia che permetta ai nostri giovani di continuare a pensare la propria vita in questa realtà. Non è possibile che i nostri ragazzi crescono nella nostra città e arrivati a un certo punto sono costretti ad abbandonarla per trovarsi un posto di lavoro e un futuro migliore. Questa diaspora, questa emorragia deve finire. Bisogna pensare delle politiche di sviluppo del territorio che passino attraverso lo sviluppo del turismo che è una nostra risorsa assolutamente importante, troppo spesso sottovalutata e abbiamo bisogno anche di programmare delle azioni che siano legate anche eventualmente alle infrastrutture, all'economia, programmazioni che non sono semestrali o annuali ma che hanno un orizzonte temporale molto più ampio che ovviamente, voglio dire, travalica comunque il quinquennio della prossima amministrazione e comunque ci coinvolgerà per i prossimi dieci anni.